2 novembre 1967 guerra del vietnam il presidente statunitense lyndon johnson convoca i suoi consiglieri conosciuti come i saggi per discutere su come cementare il popolo attorno allo sforzo bellico i saggi ritengono che l'opinione pubblica debba ricevere messaggi ottimistici sullo stato del conflitto il 17 novembre johnson dichiara stiamo infliggendo perdite più grosse di quelle che subiamo stiamo facendo progressi ma due mesi dopo verrà smentito dall'offensiva del pet grazie a tutti grazie a tutti